Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di due funzioni goniometriche, ovvero la tangente e la cotangente. Io già in un altro video avevo affrontato altre due funzioni, ovvero il seno e il coseno, e vi lascio il link qua sopra. Però oggi capiamo effettivamente insieme che cosa sono queste due funzioni e partiamo proprio con una figura. In questa figura possiamo appunto definire queste due funzioni goniometriche, quindi la tangente e la cotangente, dell'angolo alfa. Allora, innanzitutto in questa figura vediamo il cerchio goniometrico, ovvero un cerchio dove il centro di questo cerchio corrisponde proprio all'origine degli assi di riferimento e il raggio, come potevate vedere prima nell'immagine, era un raggio unitario, quindi il raggio sarà proprio uguale 1, ovvero noi prendiamo un punto che appartiene alla nostra circonferenza e il raggio di questa circonferenza sarà unitaria. Nell'immagine che vi mostravo prima possiamo vedere proprio la tangente e la cotangente dell'angolo alfa, ovvero l'angolo alfa è proprio quell'angolo al centro che è formato da il raggio OA, quindi noi effettivamente prendiamo un punto sull'asse delle ordinate, che però deve intersecare anche la circonferenza, quindi anche il raggio O, il cateto OA sarà sempre un raggio unitario. E prendiamo poi un altro punto B sempre sulla circonferenza e l'angolo che si forma tra questi due, quindi l'angolo A o B sarà proprio l'angolo alfa. E oltre alla tangente e alla cotangente possiamo vedere che facciamo sempre il riferimento al coseno e al seno, proprio perché in questa immagine che possiamo vedere si è formato un triangolo rettangolo, quindi il triangolo OCB, dove i cateti di questo triangolo rettangolo corrispondono proprio al seno di alfa e al coseno di alfa. Il seno sarà il cateto opposto all'angolo, il coseno è invece il lato, quindi il cateto adiacente all'angolo alfa. Però capiamo effettivamente cosa sono invece la tangente e la cotangente. La tangente dell'angolo alfa viene anche definito come il rapporto tra il cateto BC, quindi il cateto opposto all'angolo alfa, e il cateto OC, quindi il cateto adiacente all'angolo alfa, sempre parlando del triangolo rettangolo OBC. Quindi non è altro che la tangente è proprio il rapporto tra i due cateti, quindi quello opposto all'angolo fratto quello adiacente all'angolo alfa. Invece che cos'è la cotangente? La cotangente lo vediamo nella figura di destra. La cotangente è sempre quel rapporto che però è tra il cateto OC, quindi adiacente all'angolo alfa, e il cateto BC, quindi quello opposto all'angolo alfa, ovvero la cotangente è proprio l'opposto rispetto alla tangente. Infatti abbiamo visto che la cotangente è proprio il rapporto tra il lato, quindi il cateto adiacente all'angolo, fratto il cateto opposto all'angolo. E vediamo anche le formule. La tangente di alfa è proprio uguale a BC fratto OC, quindi ai due segmenti, quindi ai due cateti, mentre la cotangente di alfa è uguale al segmento, quindi al cateto OC fratto il cateto BC. E ritornando alle immagini di prima, possiamo vedere che la tangente corrisponde proprio alla lunghezza del segmento AT, mentre la cotangente corrisponde al segmento HS. Infatti possiamo scrivere che la tangente di alfa è proprio uguale al segmento AT, ovvero proprio AXT, mentre la cotangente di alfa è uguale ad HS, ovvero YS. Quindi che cos'è però questo punto S? Se noi abbiamo prolungato il raggio unitario e abbiamo tracciato una tangente alla circonferenza, che però deve passare per il punto 1,0, quindi deve essere parallelo all'asse delle ordinate. In quel caso appunto avremo la cotangente, mentre nella prima figura avevamo il punto T. Anche in quel caso avevamo allungato il raggio unitario affinché potesse intersegarsi però con una retta parallela all'asse delle ascisse, che passava però per il punto 0,1, ovvero corrispondeva proprio alla tangente di alfa. Vediamolo meglio nelle figure di prima. Quindi abbiamo detto che la cotangente, quindi nel grafico di destra, abbiamo allungato il raggio unitario e abbiamo tracciato questa retta S, che sarà parallela all'asse delle Y. E quando si intersecano sia il raggio sia questa retta parallela abbiamo il punto S. Invece nell'immagine di sinistra, stessa cosa, abbiamo tracciato una retta parallela all'asse delle X, una retta T, e abbiamo allungato, quindi abbiamo prolungato il raggio affinché si intersecassero in un punto T. Però la tangente e la cotangente lo possiamo scrivere anche in un altro modo, ovvero la tangente di alfa è proprio uguale al rapporto tra il seno di alfa fratto il coseno di alfa. La cotangente, abbiamo detto, è proprio l'opposto, quindi facciamo proprio il coseno di alfa fratto il seno di alfa, ovvero lo possiamo anche scrivere come 1 fratto la tangente di alfa. Però, mentre le funzioni seno e coseno esistono sempre, questo però non è vero quando parliamo delle funzioni tangente e cotangente, proprio perché abbiamo che la tangente e la cotangente, essendo dei rapporti, ci saranno quegli angoli che andranno ad annullare il denominatore. Infatti, ad esempio, la tangente non esiste per gli angoli dove il coseno è proprio uguale a 0. Ad esempio, abbiamo che il coseno di 90 è uguale a 0, quindi la tangente in quel caso non esiste, perché avremo un numeratore fratto 0, che appunto è una cosa impossibile. Mentre la cotangente, ad esempio, dobbiamo trovare quei numeri che non vanno ad annullare il denominatore, quindi quando il seno è diverso da 0. Ad esempio, il seno a 0 gradi è proprio uguale a 0, quindi in quel caso il denominatore si va a annullare, anche in quel caso la cotangente non esiste. Però, un po' come avevamo fatto per il coseno e il seno, vediamo la periodicità delle funzioni tangente e cotangente. Dal comportamento delle funzioni tangente e cotangente, in corrispondenza degli angoli che separano i quattro quadranti, possiamo costruire una tabellina, ovvero abbiamo proprio che l'angolo, ad esempio, se noi prendiamo che alfa è uguale a 0 gradi, la tangente sarà proprio uguale a 0, mentre, ad esempio, se l'angolo alfa è uguale a 90 gradi, la tangente è proprio uguale a più o meno infinito, perché noi abbiamo detto che il coseno a 90 gradi è 0, quindi abbiamo un rapporto dove il denominatore è proprio uguale a 0, e quindi avremo una forma del tipo più o meno infinito, mentre la cotangente sarà uguale a 0, e così via. Diciamo che in questa tabella avete tutti gli angoli notevoli per cui poter calcolare la tangente e la cotangente. Ritorniamo però alle figure di prima. Possiamo osservare che in queste due figure possiamo renderci conto dei segni che le funzioni tangente e cotangente assumono nei vari quadranti, e possiamo affermare che entrambe le funzioni assumono, ovviamente a variare dell'angolo alfa, tutti i valori reali compresi proprio nell'intervallo meno infinito e più infinito. Infatti la tangente di alfa, così come la cotangente di alfa, sono compresi tra meno infinito e più infinito. Bene, quindi con questo per oggi terminiamo. Abbiamo visto tutto ciò che riguarda queste due funzioni coniometriche, ovvero la tangente e la cotangente. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così non vi dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale se siete nuovi. Noi poi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo argomento. Ciao!